Uragano al sud, Catania sott'acqua, due morti, una donna dispersa e danni ingenti. Vertice in prefettura con il capo della protezione civile. In arrivo rinforzi di mezzi e uomini. Allerta maltempo fino a lunedì. Salta l'intesa tra governo e sindacati sulle pensioni. Oggi in nuovo tavolo con CGL Cisle Will che minacciano mobilitazioni. Due consigli di ministri fra oggi e domani. Udienza generale del Papa. Frutti dello spirito sono la gioia e l'amore, dice Francesco. Tanta burocrazia per dare i sacramenti allontane fedeli. Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TV2000. Dunque la politica in primo piano manca l'intesa sulle pensioni. Oggi nuovo incontro tra governo e sindacati. Intanto sul tavolo di Palazzo Chigi arriva la bozza del decreto recovery. Oggi in programma un consiglio dei ministri per l'approvazione. Domani il consiglio per la legge di bilancio. Sentiamo Augusto Cantelli. Secondo round, governo sindacati dopo la rottura di ieri sera con Draghi che lascia il tavolo del confronto. Le parti tornano a incontrarsi a Palazzo Chigi ma le posizioni sulle pensioni restano distanti con i sindacati pronti alla mobilitazione. Ci portano a ritenere fortemente insufficiente il confronto. Ecco perché nelle prossime ore decideremo unitariamente, alla luce del testo di legge che sarà approvato in consiglio dei ministri, come diamo luogo ad una fase di mobilitazione con manifestazioni a sostegno delle nostre proposte e delle nostre rivendicazioni. Sul piatto della trattativa Draghi mette la proroga di un anno di opzione donna e l'ape sociale stesa da altre categorie di lavori gravosi, misure che tuttavia non soddisfano i sindacati che bocciano l'ipotesi del superamento di quota 100 con un graduale passaggio a quota 102-104 e chiedono più soldi per la riforma degli ammortizzatori sociali. Ma Draghi sembra non cedere, non si torna indietro sul contributivo, dice, e procede dritto verso la convocazione per domani del Consiglio dei Ministri per il varo della legge di bilancio. Nel CDM dovrebbe esserci anche il decreto concorrenza. Nel pomeriggio invece è convocato un altro Consiglio dei Ministri per accelerare sul PNRR il piano di ricostruzione europeo. Scontro finale oggi sul disegno di legge ZAN, quello contro l'omotransfobia, dopo il fallimento di ogni tentativo di accordo tra i partiti. Ce ne parla Leonardo Possati. Binario morto. Il DDL ZAN contro i reati omotransfobici rischia di arenarsi in via definitiva. Alla fine il buonsenso non è prevalso. La mediazione proposta da Italia Viva, Lega e Forza Italia su alcuni articoli del provvedimento non è stata accolta dal PD e dai 5 Stelle, asserragliati dietro barricate ideologiche ed elettorali. Solo ieri sera, di fronte alla possibilità reale che il provvedimento muoia, sono arrivati timidi segnali di una possibile apertura. Conseguenza di quest'unpass è che questa mattina nell'aula del Senato si potrebbe finire al voto con scrutinio segreto. E lì può accadere di tutto, anche alla luce del fatto che molti senatori del centro-sinistra sono palesemente in difficoltà di fronte alle derive contenute nel DDL. Intanto, fuori dal Senato, i rappresentanti di Provvita e Famiglia hanno manifestato per ricordare che si è di fronte a una legge scritta male, priva di senso. Il deficit più grosso che mette in evidenza è il buonsenso. È privo assolutamente di senso, perché se lo scopo è quello di tutelare le persone che vengono fatte oggetto di violenza per il loro orientamento sessuale, esistono già tutte le leggi che sono necessarie per punire i colpevoli. Da più parti, da mesi, viene chiesto vengano riscritti gli articoli 1, 4 e 7 del disegno di legge. Il primo riguarda l'orientamento sessuale delle persone, il quarto la libertà d'espressione e infine il settimo vuole imporre a tutte le scuole di organizzare attività in occasione della costituenda giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia e la transfobia. Tre argomenti che evidentemente non hanno nulla a che fare con la violenza contro il prossimo. Il Covid in Italia adesso, terza dose di vaccino a tutti a partire da gennaio. L'ipotesi è nel piano del Ministero della Salute per arginare l'epidemia. Ieri sono stati oltre 4 mila i nuovi casi e 48 le vittime. Intanto negli Stati Uniti l'FDA, l'agenzia che controlla ogni cibo e farmaco appunto nel paese, ha dato il via libera all'utilizzo del vaccino Pfizer nei bambini dai 5 agli 11 anni. E anche grazie ai vaccini l'Australia annuncia di riaprire le frontiere. Era marzo del 2020 quando il paese introdusse una delle più severe restrizioni al mondo e oggi, dopo 18 mesi, il Governo appunto annuncia la possibilità di tornare a viaggiare. Conta di aprire le frontiere all'inizio di novembre, quando sarà vaccinato l'80% della popolazione. Giriamo pagina, parliamo dell'udienza del mercoledì. Papa Francesco ai pellegrini riuniti in Aula Paolo VI parla della tentazione dei nuovi fondamentalisti. Ma il frutto dello spirito è amore e gioia. Sentiamo il servizio di Cristiana Caricato. Ritornare all'essenziale e al realismo della croce di Gesù Francesco nella sua catechesi continua il ciclo di riflessione sulla Lettera ai Galati di San Paolo. L'Apostolo delle genti è la tentazione di chi si concentrava su rituali e precetti. Aveva sempre consigliato di consegnarsi al Dio dell'amore. E ancora oggi il rischio è la ricerca di sicurezza religiose, piuttosto che il Dio vero e proprio. Questa è la tentazione dei nuovi fondamentalisti, che è coloro che sembra che la strada gli fa paura di andare avanti e vanno indietro perché si sentono più sicuri. cercano la sicurezza di Dio e non il Dio della sicurezza. Francesco ricorda che lo Spirito Santo a rigenerare la vita cristiana opponendosi a quelle che San Paolo chiamava le opere della carne, ciò che invecchia e marcisce dall'uso egoistico, della sessualità, alle pratiche magiche, dalla gelosia, all'invidia, alla discordia, alle divisioni. Tutto questo è il frutto, diciamo così, della carne, di un comportamento soltanto umano, ammalatamente umano, perché l'umano ha dei suoi valori, ma questo è ammalatamente umano. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, una sfida per le comunità di oggi che a volte accolgono con una mole di precetti e comandamenti. Noi stessi, i preti o i vescovi, facciamo tanta burocrazia per dare un sacramento, per accogliere la gente, che la gente dice no, questo non mi piace, se ne va. E non vede in noi tante volte la forza dello Spirito che rigenera, che ci fa nuove a tutti, no? Solo l'amore ha la forza di attirare il cuore dell'uomo, conclude il Papa, che poi, nei saluti ai pellegrini polacchi, parlando della benedizione delle campane e voce dei non nati, torna a difendere la vita dal concepimento fino a morte naturale. Che loro sono annunci al mondo il Vangelo della vita, desti le coscienze degli uomini e il ricordo dei non nati. Vi ricordo adesso l'appuntamento di questa sera con il Rosario. TV 2000 trasmetterà la preghiera dal Santuario della Madonna della Salute a Taranto. Ideale conclusione della 49esima settimana sociale dei cattolici italiani. Appuntamento quindi alle 20.50 e la meditazione sarà presieduta da Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. Ora il maltempo che ha devastato Catania in due ore. Ieri è caduta la pioggia di sei mesi, questa mattina a vertice in prefettura con il capo della protezione civile. I danni sono ingenti, dicono i commercianti di Arco della Marina, l'area etnea più colpita da Catania. Sentiamo l'inviato Massimiliano Cochi. Archi della Marina è la zona delle pescherie storiche di Catania, a due passi da Piazza Duomo e da Via Etnea. Ieri qui l'onda di piena è arrivata all'improvviso, travolgendo e distruggendo tutto. In un giro di due minuti precisi la pioggia è caduta fortissimo, la Via Etnea è una strada che è in discesa e è diventata un fiume. 1,60, 1,50. Che farei il livello dell'acqua? Sì, ma non è stata l'acqua che si è alzata, non succedeva nulla. Il fattore è che è arrivata tutta in una volta, scendendo dall'acqua all'esuolo, arriva 1,50 di acqua in velocità. Le aeree all'acqua, i pomberi vengono più chiaro, perché ci hanno bloccato l'acqua. Nei racconti dei commercianti la paura per il pericolo scampato, 48 ore di pioggia ininterrotta, hanno trasformato le strade di Catania in fiumi in piene, questa volta non è un modo di dire. Piazza Duomo, Via Etnea, la tangenziale Ovest, tutto finito sott'acqua per l'esondazione di alcuni fiumi. Allagate anche l'università e l'ospedale, come mostrano le immagini riprese dai telefonini. I danni sono enormi. Attrezzature, merce buttata, se no ci saranno 50-100 mila euro di danni. Il sindaco ha disposto la chiusura di scuole ed università fino a venerdì, raccomandato alla popolazione di evitare gli spostamenti non indispensabili. Il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, ha presieduto un vertice in prefettura. Nelle prossime ore è infatti previsto un nuovo peggioramento della situazione. La paura per Catania non è ancora finita. Cambiamo argomento, aumentano i bambini in povertà, sono 20 milioni in Europa e oltre un milione solo in Italia. La denuncia arriva da Save the Children che parla di livelli inaccettabili. Alessandra Camarca. In Europa sono in aumento i livelli di povertà minorile, sebbene l'Unione sia una delle aree più ricche e con meno diseguaglianze al mondo. I bambini di tutti i paesi membri stanno affrontando livelli di povertà inaccettabili. Lo denuncia Save the Children nel suo nuovo rapporto che prende in analisi 14 paesi in Europa e in cui riferisce che sono 20 milioni di bambini in condizioni di estremo bisogno. Anche l'Italia non fa eccezione. Le stime mostrano che nel 2020 i bambini in povertà assoluta sono 200 mila in più rispetto all'anno precedente. Complessivamente nel nostro paese si stima che i bambini in condizioni di miseria siano oltre un milione. Nemmeno la Germania, uno dei paesi più ricchi al mondo, esente dal fenomeno. Qui un minore su quattro cresce a rischio di povertà mentre in Spagna e in Romania un bambino su tre vive al di sotto della soglia di povertà. Aumentano i numeri nei paesi dei Balcani occidentali dove i tassi di indigenza minorile sfiorano percentuali del 50%. I dati sono riferiti al 2020 quando si è registrato un peggioramento delle condizioni di vita dovuto alla pandemia. In Italia sono più esposte alla povertà le famiglie numerose con almeno 5 componenti e le famiglie con un passato di immigrazione mentre in Spagna e nei Paesi Bassi circa il 40% dei bambini a rischio povertà proviene da famiglie che lavorano sfatando il mito che i bambini che crescono in povertà provengano da famiglie con genitori disoccupati. E sono 39 le misure cautelari eseguite questa mattina dai carabinieri del NAS nei confronti di persone che vendevano droga sul dark web in particolare la droga dello stupro e il fentalin. Gli arrestati in più città d'Italia dovranno rispondere anche dell'accusa di riciclaggio oltre che ovviamente di importazione e traffico di sostanze stupefacenti. La parità salariale tra uomo e donna è legge. Ieri approvazione all'unanimità del Senato tra le novità anche nuovi strumenti per aiutare le donne a conciliare vita e lavoro ma ci sono novità anche per le aziende con più di 50 dipendenti. Giuseppe Caporasso. E legge il testo unificato sulla parità salariale dopo il via libera da Palazzo Madama. Il provvedimento prevede incentivi e l'assunzione di personale femminile e sgravi fiscali fino a 50.000 euro per coloro che adottano politiche utili in grado di far conciliare tempi della vita e di lavoro per le donne. Si punta sostanzialmente al rispetto della parità di genere. Le strutture produttive sopra i 50 dipendenti dovranno compilare un rapporto sulla situazione del personale. Lo stesso rapporto avrà molti indicatori dai salari agli inquadramenti dai congedi al reclutamento. Gli elenchi delle aziende che trasmetteranno il rapporto e quelli di chi non li trasmetterà saranno pubblici in nome della trasparenza. Tutti i dati saranno così consultabili dai lavoratori, dai sindacati, dagli ispettori del lavoro, dai consiglieri di parità e sono previste sanzioni fino a 5.000 euro per la mancata o errata trasmissione degli stessi dati. Come ulteriore meccanismo incentivante dal 1 gennaio 2022 partirà la certificazione della parità di genere, una sorta di bollino di qualità per le aziende che opereranno per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale, alla parità di mansioni. Saranno importanti anche l'analisi delle politiche di gestione, delle differenze di genere e la tutela della maternità. Dalla resistenza alla fondazione della CISL da parlamentare a ministro la biografia politica di Carlo Donat Catten, democristiano, protagonista della Prima Repubblica, è contenuta nel libro di Giorgio Aimetti presentato all'Istituto Sturzo a Roma oggi. Vediamo le immagini. Occasione per ripercorrere 50 anni della storia industriale, sociale e politica del nostro Paese negli interventi dello storico Malgeri e di Ferdinando Casini che appunto vediamo. Giriamo pagina, l'estasi di Santa Teresa, il capolavoro di Gian Lorenzo Bernini torna al suo originario splendore. Andiamo nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma dove è custodita con Pierluigi Vito. La sconvolgente morbidezza e sensualità dell'estasi di Santa Teresa splende di luce nuova. Il restauro della Cappella Cornaro nella chiesa romana di Santa Maria della Vittoria ha ridato vita al complesso intorno a cui ruota uno dei capolavori di Gian Lorenzo Bernini. La pulitura del cupolino che corona il gruppo scultoreo attinge ai toni dorati dei vetri ideati dallo scultore. La policromia dei marmi risalta più vividamente e la volta con l'affresco dell'Empireo regala i suoi colori celestiali. Una meravigliosa composizione che avvolge lo spettatore in un'esperienza mistica che va oltre ciò che gli occhi possono cogliere. Sono molteplici gli sguardi però ciò che noi carmelitani cerchiamo di aiutare a contemplare, a guardare fra le pieghe di quel panneggio che Bernini ha scolpito è la vicenda spirituale di Teresa per cui tutti rimangono toccati e come quel tocco che ha sentito Teresa in quel dardo che l'ha infiammata dell'amore di Dio. Arte e fede si tengono insieme nel marmo che parla anche quando nascosto come accadeva ai visitatori che durante i lavori curati dalla soprintendenza speciale di Roma si inginocchiavano davanti al cantiere. E pensare che migliaia di persone per 500 anni si sono avvicinati a quest'opera e si sono immedesimati in quest'opera per pregare Teresa questo ci ha fatto realizzare l'intervento di restauro in maniera più consapevole dal punto di vista dell'approccio non metodologico ma di quello che è il rapporto tra arte e fede. L'edizione di questo telegiornale finisce qui l'informazione torna alle 14.55 grazie per averci seguito buon pranzo grazie per aver guardato il video